E' per fortuna che è stata completamente riaperta via Matteotti, liberata di fretta e furia stamattina presto dal materiale del cantiere, perché in centro ad Ariano, all'orario d'ingresso delle scuole, c'è stato il caos. Nonostante l'impegno e la presenza dei vigili, la sperimentazione di riportare il capolinea dei Pullman in via Fontana Nuova ed istituire il senso unico di marcia su via Matteotti con direzione Sant'Antonio via Fontana Nuova per ripristinare il mercato settimanale in piazza Mazzini è stato un flop. Un'ordinanza firmata ieri dall'assessore alla viabilità, e già questa è un'anomalia, che scavalca l'ordinanza del comandante della Polizia Municipale, che aveva stabilito per il periodo di lavori e sottoservizi di trasferire le bancarelle di piazza Mazzini in via nazionale, già area mercatale. Ma dopo le rimostranze dei commercianti, l'amministrazione Franza ha voluto valutare soluzioni alternative. Risultato, un mercoledì mattina d'inferno. I disagi maggiori per gli autisti dei Pullman di linea, alcuni dei quali costretti a manovre assurde che hanno creato ingorghi, come quello proveniente da Foggia, non informato della modifica del piano traffico. Arrivato in piazza Mazzini ha trovato il terminal occupato dalle bancarelle ed ha dovuto percorrere l'anello intorno alla villa per potersi girare. Perdita di tempo per studenti ed anche pericolo per loro, poiché la fermata in via Fontana Nuova in mezzo al traffico non è l'ideale, rischiano continuamente di essere investiti. E a proposito di investimenti, per completare il mercoledì nero arianese, questa mattina una vigilessa è finita in ospedale per essere stata urtata da un'auto. Pare nulla di grave, fortunatamente.